Quanti giorni ti fermi? Quattro. Abbiamo un po' di soldi perché io sono proprio a secco. Possiamo fare quello che vuoi. Hai sentito Truman? Ce la spasseremo noi tre. Sì, lo so. Adesso voi direte, ah Truman, sì, è il film quello del cane. È vero, c'è un cane in questo film, ma c'è anche molto, molto altro. Sarà che ormai oggi sono tutti talmente animalisti che il regista e la produzione e la distribuzione hanno pensato di lanciare questo film soltanto come il film del cane, tant'è vero che hanno anche la sponsorizzazione della Lega, del cane, eccetera. Ma quello che ci racconta questo bellissimo film spagnolo è qualche cosa di grandemente profondo, umano, ed è il momento della fine. Protagonista del film è questo attore argentino, grande seduttore, uomo di fascino, che si scopre malato a pochi mesi davanti a sé. Il suo migliore amico arriva dal Canada e cerca di stargli vicino come può. Quindi noi per quasi due ore di film seguiamo l'itinerario di questo personaggio meraviglioso, di cui alla fine ci innamoriamo, che deve mettere a posto le sue cose, che deve fare un po' di ordine e che con grande serenità assolutamente laica, perché è un film che non ha nulla di religioso, cerca di congedarsi nel modo migliore da tutti quelli che ha intorno, di fare un po' i conti col figlio che vive ad Amsterdam, con le donne che ha amato e con questo cane. Il cane è forse la persona, sì, chiamavo la persona, l'essere vivente che gli sta più vicino, quello più affezionato, e assume un significato simbolico per tutto il film. Allora, l'argomento è molto difficile. Devo dire che io, che sono molto preoccupata quando si tratta di questi argomenti, temo sempre che possano essere sdolcinati e che a un certo punto ci sia o troppo o troppo poco, non ho mai avuto neanche per un attimo la sensazione che ci fosse qualche cosa di sbagliato. È un film che vive di un equilibrio meraviglioso, di due attori che meglio di così non potrebbero essere, e che riesce a mettere così tanta umanità e così tanta verità in questa storia dolorosa, ma alla fine anche piena di vita, che davvero vi consiglio di andarlo a vedere assolutamente. Non liquidatelo semplicemente dicendo, ah sì, lo so, è il film quello dove c'è la storia del cane. È molto, ma molto di più. Grazie a tutti.